Parte 2 con Mary, la bionda. Allora, Savufer Maschile, tra l'altro è un tema che ho riesumato da alcune interviste passate, perché nessuna ragazza aveva scelto. Ah, ecco. Quindi così, oggi tentiamo. Esatto. E siccome oggi ho detto, aspetta, oggi abbiamo interviste, devo ancora scegliere i temi. Aspetta un attimo che vado a vedere se ho avanzato qualcosa dalle edizioni precedenti. E quindi ho trovato questo topic che ho riproposto e hai scelto. Ok? Innanzitutto andiamo a dire che cos'è il Savufer, no? Una sorta di mix di atteggiamenti, di tatto, di sensibilità, di modi di fare, che in qualche modo una donna apprezza e gradisce particolarmente. Ok? Sì, sì, sì. Prendiamo subito in esame magari situazioni passate dove tu hai notato che un uomo non aveva tatto sensibilità, ok? E quindi hai detto, caspita, ma questo non se ne accorge che stai in un qualche modo sbagliando? Ok? Allora, esatto, sì. Diciamo il Savufer è una cosa molto importante, anche perché penso che sia più l'atteggiamento a colpire la donna che tutto il resto in realtà, cioè sia una parte fondamentale. Mi è capitato di, appunto, avere frequentatori, diciamo non partner, poco sensibili, di poco tatto. Esatto, quindi magari, non so, partiamo dalla banale cosa del escono con te e magari ti iniziano a fare commenti anche sulle tue amiche per dirti. Allora, questa cosa secondo me ha poco tatto perché, nel senso, se stai uscendo con me, non vai a guardare anche le mie amiche che per quanto fantastiche e meravigliose possano essere, non è una cosa di poco tatto e di poco gusto. Quindi, una cosa sicuramente questa. Un'altra cosa, le poche attenzioni, nel senso, quando, secondo me, si frequenta una ragazza, soprattutto all'inizio, mi è capitato di frequentare una persona e poco dopo era il mio compleanno e c'era una frequentazione, comunque, diciamo, seria, nel senso, comunque abbastanza seria, e non mi ha fatto neanche un pensierino di compleanno, che anche lì non è un discorso di fare il regalo di grande valore, ma magari anche solo un pensierino, un dire, è il tuo compleanno, ti ho pensato. Anche lì, secondo me, poco tatto. Come poco tatto magari dire, non so, per esempio, quando ero una studentessa ancora, cioè un paio d'anni fa, in realtà, quando ancora ero una studentessa, magari ero sotto stress e che dovevo preparare gli esami e tutto quanto, avevo, non so, il tipo con cui uscivo in quel momento, che poco tatto anche lì, perché si prendeva, usciva, faceva serate e tutto quanto, invece di, magari, starti accanto e dirti ti rassicuro per gli esami, eccetera, sei lì che te ne freghi. Cioè, sono tutte piccole cose che, soprattutto all'inizio, secondo me, sono... Vai a pesare. Vai a pesare, sì, nel senso di poco tatto, anche magari banalmente quello che ti fa l'apprezzamento, però poi ti fa anche la critica, no? Magari ti dice, come sai bene, però potevi metterti, non so, in un altro modo. Cioè, mi è stato detto anche magari che a volte andavo agli appuntamenti troppo elegante, oppure non lo... Cioè, anche lì è poco tatto, nel senso, all'inizio, anche se tu pensi, stai uscendo con questa ragazza che magari si è messa in tiro, troppo in tiro, esagerata, perché magari il mio intento non era quello di portarla a cena chissà dove, però, comunque, devi apprezzare e deve avere più tatto. Quindi, cioè, secondo me il savoir-faire sono queste piccole, piccole cose, cioè, che noti all'inizio di un ragazzo. Ad esempio, mi è capitato invece di notare un savoir-faire in persone in cui magari non... Non pensavi? Non pensavo, esatto. Cioè, persone che magari lì per lì ti sembrano... Anche no, piene di sé, no? E comunque sia quel genere un po' egocentrico, del maschio un po' egocentrico, però, in realtà, avevano molto savoir-faire. Cioè, ma anche nell'approccio. Cioè, anche nell'approccio... Ad esempio, una volta mi è capitato di un approccio molto interessante di questo... di questo ragazzo. Adesso il mio ragazzo mi ammazza. Beh, per fortuna è di là, l'abbiamo chiusa nello stagione. Di questo ragazzo. Vabbè, era prima di lui, quindi tutto è lecito. Di questa ragazza che comunque mi aveva, diciamo, fatto questo approccio in maniera molto carina. Nel senso, mi aveva chiesto il numero di telefono e poco dopo io ero andata via. Lui mi ha chiamato, mi ha detto tipo, guarda, ti va di venire a cena, tutto quanto. Cioè, non è stato un approccio diretto, però è stato un approccio carino, come per dire... Non è che mi ha scritto il messaggio subito, magari provandoci. Che proprio dicendomi, guarda, ti va di venire a cena nei prossimi giorni e tutto quanto. Quindi secondo me è stato un sour fare. Anche il gioco di chiedere il numero di telefono e chiamarti subito dopo, per dire... così come magari scegliere delle location carine per andare a cena. Piuttosto che, non so, porsi in maniera anche intelligente nei confronti della ragazza che hai davanti. Cioè, capire sia lei i gusti che può avere, quindi cercare di entrare in empatia. Basti anche tu far vedere che comunque hai un cervello. Nel senso che, per quanto l'interesse possa essere inizialmente sicuramente fisico, fargli capire che tu sei una persona che comunque... Che pensa. Che pensa che ha un cervello. Quindi sì, sicuramente nel sour fare rientra anche creare un'immagine di te non falsa, eh. perché non deve essere un'esagerazione. Però fargli capire, non so, che sei una persona comunque che ci tiene a determinate cose, che ha degli interessi, che cerca di entrare in empatia con te. Ecco, questo sicuramente. Ok, dai. Direi che questa ragazza ci ha veramente inondato di contenuti. Io non ho detto niente in questa intervista qua. Ha detto tutto lei. Ho parlato, ho parlato. E quindi apprezziamo molto ragazzi di questo tipo che portano contenuti e ci fanno lavorare poco. Un ringraziamento ancora a Mary. Alla prossima. Ciao.